Ciao! Ciao mia bambina! Allora, da quanto è che va avanti questa cosa? L'accoglienza in famiglia E lui è Chris, che bel ragazzo! Riserva cortesie inaspettate Tua madre mi ha ipnotizzato ieri sera Da questa parte i neri sono strani È tutto nella mente Scappa! Guardami! Giovedì, in prima serata su Italia 2 Scappa! Get out!